Ho cominciato ad aver paura che non cambierò mai. Nella vita non si cambia. Ma io vorrei almeno guarire. Nessuno ha mai parlato di guarire. Tutto il più possiamo riflettere sui motivi della sua sofferenza? Tua madre esce con un altro uomo. Più giovane, più atletico di tuo paese o di me. Beh, era ora. Sono qui! Elia! Non mi interessa un fisico scolpito, chiaro? Quello te lo puoi prescordare. Dove vai? A cena fuori. Ti ho lasciato un po' di polpettone in frigo. Forse sei un po' fuori forma come seduttore. È una lista che si fa guidare dalla personal trainer. Questo mi mancava. La ragazza non ha pace con gli uomini. Se non sono disgraziati o galeotti non le interessano. Ma è grave? È un tipico tratto masochista. Organizzato tutto. Tutti mi considerano una disgraziata. Devi solo avere un po' di fiducia in te stessa. Voglio andarmela da qui. E io come faccio senza di te? Frequenti una donna giovane, bella e dall'aria anche molto sveglia, altro che minorata. Quindi lei non è il nonno? Mi devi dare... Questa situazione è già abbastanza ridicola. Lascia di andare! Di più!